Diradatesi le nubi, con una pioggia ancora presente e parzialmente costante, ma di minore intensità, è il freddo il nuovo protagonista di questa fase di instabilità meteorologica che sta colpendo il sud Europa. Il gelo proviene dal soffio del Burian, il cosiddetto vento proveniente dalla Siberia, una ondata che probabilmente proseguirà per tutti gli ultimi dieci giorni di febbraio e per gli inizi di marzo. Il freddo è favorito dall'alta pressione che dalle azzorre si sta portando a nord, percorrendo l'oceano Atlantico sino alla Scandinavia, un fenomeno che favorisce l'arrivo dell'aria gelida dalle zone artico-continentali. Intanto a Napoli il Vesuvio è tornato ad essere imbiancato e si fanno i conti con i danni provocati da pioggia e vento. È tornata la fornitura di acqua in via Nuova San Rocco, zona ospedaliera, sospesa a causa di una voragine che ha provocato numerosi problemi alla viabilità dell'area collinare. Nel quartiere Vasto, in via Venezia, il palazzo soggetto al crollo della rampa delle scale al quarto piano è stato messo in sicurezza per consentire di comprendere quanto accaduto e di fare i rilievi.